E' come nelle grandi storie, Padron Frodo, quelle che contano davvero. Erano piene di oscurità e pericolo, e a volte non volevi sapere il finale. Perché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare come era, dopo che erano successe tante cose brutte? Ma alla fine è solo una cosa passeggero, quest'ombra. Anche l'oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno, e quando il sole splenderà, sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie che ti restavano dentro, anche se eri troppo piccolo per capire il perché. Ma credo, Padron Frodo, di capire ora. Adesso so. Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro, e non l'hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano aggrappati a qualcosa. C'è del buono in questo mondo, Padron Frodo. E' giusto combattere per questo.